Ecco qua, buongiorno, qui ho omaggiato Metina con il libro sull'amore esterno vita, la bollettina di Mera del Alca, sta in ingresso, c'è anche la bollettina di altri artisti della bollettina tra cui ho avuto con la bollettina di sale, tra una bollettina e una bollettina, e noi sappiamo dei problemi che ci sono. Più c'è anche il mondo, perché ho dedicato, oggi è una giornata speciale, via alle donne, poi la professoressa Angela Pondoli, che sarà con noi, insieme anche a Manaseri, che leggeremo una parte delle sue microcentrali. Quindi ecco perché c'è stato un panissimo coro. Devo dire che io amo molto i componenti del coro di Mertini e altri amici, come dice Zocato, che è il nostro Presidente, dove io sono nata probabilmente, il nuovo Cenacodo della Polizia. Allora io adesso ho il Presidente per tutti. Due o tre minuti per ciascuno, perché dobbiamo sventi sventi, che vi definire presto, con una maniera dolce e legata. Prego il Cenacodo di un attimo, vieni il mio amico. E ho portato il mio cuore di Nero, le antologie che abbiamo fatto tanti anni fa. Io non ero componente, certo. Noi, il Presidente, non Cenacodo della Polizia, ma questo è un punto, non Cenacodo della Polizia niente, oltre tre anni fa. Quindi, chiaramente, Cenacodo. di un attimo. Sì, un po' che parlava, c'è quello che mi chiedeva, che era il mio amico. Il Cenacodo della Polizia è arrivato, una sera, una serata, di una sera, no? Eravamo insieme a morire, una famiglia, vengo rispetto, no? Ci siamo aspettati, e venendo nella stessa sera, come quando ci hanno apportato, facendo un lavoro in realtà. È venuto lì che è arrivato questo Cenacodo della Polizia. e sono passato adesso, dalla domanda 2, andate qui, di riambi e tanti. Siamo stanziati insieme, e parlo però nell'ultimo periodo. Purtroppo, quando magari manca i pilastri, ce l'hanno da Polizia, tutti i dei lavori sono volati via, e il più vecchio che non è rimasto, solo io. Dopo, quando sono le trasfaglie, praticamente mancando i pilastri, questi contattori, vedete che ci siamo tornati, no? Perché non è facile cominciare l'approccio della Polizia, i nuovi, i ben eserissi. Purtroppo, la Polizia sappiamo, ci vogliono che chiamano, proprio della Polizia, per inserirsi. Non è un lavoro, perché il lavoro non è una taccata. La Polizia è un amore, un amore senza motivi, senza fini. E così ci siamo tornati. Questi loro, ce le avevamo riuscivano, sono venuta con noi, e ci serviamo per ogni luogo, conoscendo anche altre 10 associazioni, per i quattro povere, per i più pittori, e oggi siamo qui ancora, a trovare, e a creare una forza sempre, per il nostro cammino dei poeri, e, secondo me, di scultura, delle pittorie, delle pittorie, delle pittrici, che abbiamo conosciuto, che sono previsti. Cerchiamo anche sempre di allogare il tempo, e di esserci, e non deve neanche mai la Polizia, cioè il mondo, la Polizia è sapore. di Stefano, il generale Rinaldi, e Giovanni Monti, grazie a questo meraviglioso, dove aveva già stata la manifestazione, Marco Sennolitano, e anche per me, a 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 me.